Eccoci qua ragazzi, benvenuti in questo video. Allora, oggi vediamo le quote che calano. Vi mostro due strumenti interessanti per guardare insieme, per osservare insieme le quote droppate, i movimenti di quota a ribasso, e vi do alcuni consigli utili sul mercato per generare profitti e per avere soprattutto un approccio professionale ai mercati sportivi. Come vedete stiamo osservando semplicemente quello che è il palinsesto di questa sera con i match maggiori. Ovviamente, quello che deve fare un professionista ogni volta che si pone a mercato è quello di individuare le quote di valore, che sono l'unico obiettivo reale, concreto, per inseguire un profitto di medio-lungo periodo e soprattutto spostare il rapporto rischio-rendimento dalla parte del rendimento, quindi ottimizzare i nostri profitti e limitare le eventuali perdite. Perché è ovvio, ragazzi, che nel trading sportivo, nel betting tradizionale, ci siano delle perdite. Quindi il nostro capitale deve saper gestire delle possibili loss, delle possibili sconfitte e delle possibili perdite di capitale, deve saperle gestire, deve saperle affrontare e deve saperle uscire brillantemente. Questo è valido non solo per la strategia, diciamo, anche se questo è un termine improprio, utilizzata sul mercato, ma questo vale non solo per il money management, quindi la strategia in questo caso di gestione del nostro capitale, ma anche per le nostre energie mentali, per la nostra forma mentale e tutto quello che riguarda più in generale la psicologia di uno scommettitore professionista. Quindi c'è un triplo trauma che dobbiamo saper gestire da una parte, c'è la loss che intacca le nostre convinzioni, la nostra autostima, la nostra forma mentale, e poi c'è una loss che intacca quella che è la nostra gestione del capitale e poi c'è una loss che intacca, per l'appunto, quella che è la nostra analisi per i match successivi. Quindi c'è tutto un discorso dietro di gestirla, non solo dal punto di vista mentale, ma anche dal punto di vista pratico, con quella che è la gestione stretta del capitale. Comunque, vediamo innanzitutto cosa vuol dire analizzare professionalmente sul mercato. Come ogni professionista fa, e per questo ragazzi ci vogliono ore e ore sul mercato, in pre-match per analizzare il paninsesto giornaliero, poi dipende ovviamente dal paninsesto, ma solo sul calcio ci vogliono delle ore, è ovvio che sia così, quindi vi invito a non credere ai ciarlatani che sembrano di osceso sulla terra, loro hanno delle giornate da 100 ore in cui riescono a fare le analisi pre-match del tennis, l'analisi pre-match del calcio, l'analisi pre-match dell'ippica, del basket, e poi magari riescono a realizzare tantissimi video, cioè queste sono cose che non esistono al mondo. Un professionista, ragazzi, se voi volete diventare professionisti in questo mondo, dovete assolutamente seguire tutto un iter, tutti i giorni, avere una tabella di marcia ben scritta, seguire l'operazione di mercato. Adesso è più semplice in un mercato che offre dei match ad orari precisi, come può essere quello del calcio, mentre è molto più complicato nel momento in cui parliamo del tennis, perché? Perché la maggior parte dei match hanno degli orari particolari, subiscono dei rinvii, subiscono dei match, subiscono delle anomalie, per quanto riguarda la tempistica sul mercato, quindi vengono posticipate, hanno delle interruzioni per pioggia, per quello che è, potrebbero essere rinviate, quindi è già molto più complesso. Quello che dovete fare voi è avere una tabella di marcia. Se volete diventare dei professionisti, ovviamente quello che vi consiglio è di dedicare 2-3 ore al giorno in questa fase, quindi come facevo io tantissimi anni fa, quindi alternare un lavoro e poi ovviamente mettersi lì e le ore successive a quel lavoro, il lavoro principale, quello che vi permette di vivere, studiare, ma poi ragazzi ci dovrà essere un'organizzazione su particolari mercati, su particolari campionati, su particolari leghe, e dove voi avete il focus e dove sapete che dovete andare a operare. Quindi con tutta una tabella di marcia ben precisa. Ma a parte questo, quindi un professionista che va a fare? Va a analizzare il mercato, faccio per dire, prendiamo questa operazione di mercato, o meglio questo match, Atalanta-Napoli, sappiamo che la Coppa Italia è una competizione molto difficile da leggere in questo periodo, non solo perché c'è il Covid, ma perché siamo al ridosso di una fase delicata della stagione, che vede sicuramente un'incidenza di infortuni molto importante. Come abbiamo visto, spesso ci troviamo davanti a delle espulsioni, a delle dinamiche molto particolari all'interno delle stesse partite. Il clima poi, ragazzi, questo periodo è delicato, anche lì potrebbe nevicare, come potrebbe esserci, come ci potrebbero essere delle intense piogge. Insomma, questa è una fase delicata della stagione e ragazzi, non dimentichiamo mai, questa è una certezza, è una mia esperienza che ho fatto, che ho fatto tale, grazie ad anni sui mercati sportivi del tennis, non dimentichiamoci mai che parliamo di giocatori, parliamo di persone, di esseri umani. E sappiamo che a ogni cambio di stagione c'è un'influenza, questo potete anche vincerlo tranquillamente guardando i mercati ogni anno, cambia sostanzialmente qualcosa, cioè quell'equilibrio si rompe a favore di una nuova stagione che cambia. Quindi ci sarà più agitazione nell'aria, ci sarà più concitazione nell'animo degli sportivi, non parliamo poi del periodo del Covid, che comunque influenza e determina i risultati, sia dal punto di vista del risultato, come in senso stretto, sia dal punto di vista psicologico per i giocatori. Intanto qui continuano, come sempre, arrivare tantissime notifiche, ma entriamo nel vivo del discorso. Quindi qui stiamo guardando Atalanta-Napoli, quello che ci interessa a noi per le quote droppate, dopo aver fatto la nostra consueta analisi su questa operazione di mercato, sappiamo che l'Atalanta ha degli infortunati, soprattutto Atebur, molto interessanti, sappiamo il momento che sta vivendo molto complicato il Napoli con degli assenti di tutto rispetto, e sappiamo che entrambe le squadre non gravitano nella zona Champions, l'obiettivo dell'Atalanta è quello di arrivare in Champions League, che è un obiettivo che ovviamente può passare anche all'interno nella programmazione di Coppa Italia e di Champions League, poi con i scontri diretti, con la fase di eliminazione diretta, che quindi è una parte del campionato molto delicata questa, quindi fate molta attenzione, ma a parte queste considerazioni mie personali, andiamo a vedere poi nel dettaglio quali sono gli strumenti che ti possono servire per andare a individuare i movimenti di quota sul mercato, in questo caso le quote che calano. Questo è uno strumento che già abbiamo visto in altri video, in altre sedi, Bet Explorer, è uno strumento molto interessante, basta andare sulla sezione, faccio per dire se ci interessa adesso il football, il calcio, andare su Soccer e poi su questa voce, e andare a guardare, ovviamente mettendo un lasso di tempo abbastanza ampio, match per gli ultimi sette giorni, ed ecco qua che andiamo a vedere quelli che sono i movimenti di quota. Questa quota ha avuto questi movimenti, molto interessante, e qui parliamo ovviamente di femminile, e questo cosa ci può essere utile? Ci fa capire innanzitutto questo strumento, il movimento di quota e in che direzione sta andando, quindi ci troviamo davanti a delle quote droppate, quello che dobbiamo fare noi, dopo aver fatto la nostra analisi preliminare, è andare a cercare delle conferme, e questo strumento può esserti utile. La conferma poi sostanziale, che deve andare a ricercare, è quella delle informazioni che hai ottenuto sulla singola partita. Perché questo strumento, ragazzi, è fondamentale? Può essere fondamentale. Perché? Perché nel momento in cui noi abbiamo fatto la nostra analisi, e avendo individuato una quota di un certo tipo, di un certo spessore che a noi interessa, vediamo che sostanzialmente sul mercato c'è un movimento anomalo, noi ci dobbiamo chiedere perché quel movimento anomalo si verifica. Questo può accadere per tantissimi motivi. Ovviamente, oltre al flusso anomalo di scommesse, ci possono essere delle informazioni privilegiate da parte di qualcuno, soprattutto dal bookmaker, che ha ritenuto corretta aggiustare quella quota o addirittura, come in alcuni casi capita, eliminare totalmente il mercato. Quello che dobbiamo fare noi è che, dopo la nostra analisi, andiamo a cercare conferme, e se vediamo che, in questo caso, faccio per dire, la quota mi è calata tantissimo, ovviamente della squadra opposta a quella che io ho scommesso è un grave segnale, è un segnale da tenere bene in considerazione. Noi dobbiamo andare a capire per quale ragione quella quota è crollata. Forse la nostra analisi era sbagliata, forse non siamo stati capaci di reperire le giuste informazioni sul mercato. Bene, questo non lo dobbiamo andare a confutare, dobbiamo andare a cercare ulteriori certezze. Ovviamente qui vediamo le quote droppate, vediamo un grandissimo numero di campionati, ovviamente qui mette in risalto l'operazione di mercato, meglio la quota disponibile con il miglior bookmaker del momento, con quella quota lì ovviamente, qui sta ad indicare quello che è stato il movimento della quota, con un drop del 29% e così via per tutte le altre partite fino ad arrivare anche a partite di prossimi giorni. Quindi qui ragazzi è importante, faccio per dire, in Spagna in seconda divisione, qua vedete questo movimento di quota, questo drop, prima cosa andiamo a capire perché è arrivato questo drop. Quindi paradossalmente voi potete fare anche il lavoro opposto, cioè entrare qua sopra e andare a cercare degli indizi sul mercato, anche se è una cosa che non vi consiglio di fare. Però voi entrate qua e vedete un movimento di quota di questo tipo. Siccome la partita, cioè sostanzialmente, si terrà fra 4 giorni, questa quota può addirittura tornare al prezzo, alla quotazione originale, oppure può diminuire. Quindi è importante andare a capire perché questa quota si è abbassata. E il drop della quota ci deve dare un ulteriore spunto alla nostra ricerca. Perché è possibile, cercando delle informazioni dettagliate su alcune testate giornalistiche di rilievo o semplicemente andando a ricercare quelle che sono proprio le squadre in senso stretto, quindi andando a studiare la situazione societaria dello spogliatore della squadra stessa, possiamo andare a capire perché c'è stato questo movimento. Magari, faccio per dire, per una di queste quote c'è stato un movimento perché il giocatore, uno dei giocatori titolari, magari il centro della squadra, ha avuto un infortunio o più semplicemente perché in questo periodo capita spesso, è stato vittima del covid, quindi adesso è in quarantena. Quindi bisogna iniziare a capire, bisogna iniziare a spulciare non solo il palizzesto, ma le informazioni che riguardano ogni singolo match. Un altro strumento che mi sento di mostrarti è questo qua. È uno strumento che può esserti sicuramente utile e qui vediamo un mercato diverso. Io qui inserisco ovviamente sempre una linea di riferimento molto interessante che è un 8-8 bet e che comunque ci offre una linea molto molto importante. Noi vediamo qui le ultime 48 ore, impostiamo quello che ci interessa per il risultato finale, come vedete 1x2, final time, e qui andiamo a vedere il movimento di quota delle squadre, del mercato che ci interessa. qui addirittura viene indicato un drop del 53%. Quindi qui avete un'ulteriore verifica del movimento della quota espessa in termini percentuali e come vedete si spazia per molti campionati anche per i giorni successivi. E ovviamente questi due strumenti possono essere usati di pari passo, sicuramente uno è più preciso, può essere più preciso per alcune dinamiche o alcuni modi di operare dell'altro e possiamo osservare come o comunque ci sia un mercato in continuo movimento e quello che dobbiamo fare noi è andare a ricercare le motivazioni che spingono queste quote a muoversi in questo determinato modo. Qui abbiamo anche la possibilità di cambiare la nostra tipologia e qui possiamo vedere per esempio un Asian Handicap meno 0,5 e andiamo a vedere dei movimenti di quota proprio per rimanere legati al mercato asiatico. La stessa cosa possiamo fare con l'Handicap più 0,5 faccio per dire qua vedete il movimento del Napoli che poi sostanzialmente corrisponde se lo troviamo adesso qui si, corrisponde come vedete molto simile a questo qui perché ovviamente sono due mercati paralleli quindi come vedete noi siamo sempre di fronte a a delle a delle a un costante e continuo confronto sul mercato per quello che ci riguarda per quello che ci riguarda in questo caso le quote le informazioni dobbiamo andare a cercare certezze e qui la stessa cosa possiamo fare con l'over 1,5 come vedete qui c'è stato un drop interessante che ci segnala anche la grafica qui intanto ho sbagliato a cliccare e semplicemente possiamo anche cambiare ulteriormente andare a guardare l'over 2,5 per queste particolari operazioni di mercato e qui come vedete l'under ha avuto un drop abbastanza importante soprattutto qui col 42% qui è un campionato quello brasiliano che io non vi consiglio particolarmente e che è un campionato molto molto ostico è un campionato che spesso vede dei match truccati quindi sì qui è interessante andare a guardare le quote troppate ma a titolo informativo io vi consiglio di guardare ad altri mercati come vi consiglio di evitare il campionato russo che comunque offre spesso delle partite non proprio pulite ecco quindi qui vedete la Ricol il Palmeiras e comunque qui ci sono tantissimi movimenti di quota che possono risultare estremamente interessanti io ragazzi vi ho mostrato questi due strumenti questo si chiama Hotsmat è uno strumento .com è uno strumento importante importante non è essenziale però sicuramente se siete alle prime armi e volete volgere un'analisi professionale questo vi è assolutamente utile vi può essere utile io come al solito vi ricordo che potete tranquillamente iscrivervi all'interno del canale Telegram dei canali dei nostri collaboratori dell'azienda sono dei ragazzi che aspirano al professionismo e che quindi una marcia in più ovviamente rispetto a uno scommettitore amatoriale condividono le loro operazioni di mercato in maniera totalmente gratuita e nei gruppi in questi canali Telegram totalmente appunto gratuiti messi a disposizione dalla nostra azienda quindi voi trovate avete l'opportunità di avere della formazione gratuita ma soprattutto dell'analisi di mercato condotte da questi ragazzi che stanno facendo veramente un ottimo lavoro lo trovate trovate questi link qua sotto nei commenti come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se vi è piaciuto lasciate like ma mi frega poco se vi è piaciuto l'importante è che sia stato utile questo video e soprattutto ragazzi diffondete 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 il verbo del professionismo io vi saluto e ci vediamo ai prossimi video ciao